Abbiamo quello che anche contro la Regina è stato il capitano del Benevento per l'assenza di Cristian Maggio. Luca, un test importante che dà seguito alla buona prestazione contro la Regina. Davvero una prova importante al cospetto di una grande squadra, la Lazio, che è arrivata l'anno scorso quarta in campionato, ha lottato fino alla fine per un posto Champions, ma addirittura per qualche mese ha lottato anche per lo Scudetto. Quindi, sensazioni importanti, un buon test in vista dell'esordio di sabato prossimo contro la Samp. Buonasera a tutti. È un test molto importante perché la Lazio l'anno scorso ha dimostrato di essere una grandissima squadra e di lottare per lo Scudetto. Per noi è un test molto importante non tanto per il risultato, ma per vedere anche un po' a che punto stavamo. Non abbiamo avuto la possibilità di fare molto amichevoli, ne abbiamo fatte solamente due contro la Regina e contro la Lazio, che oggi, ripeto, era un test importantissimo. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare. Se siamo arrivati qua ce lo meritiamo e adesso la cosa che mi rende orgoglioso è che so che dipende tutto da noi. Migliora settimana dopo settimana l'intesa con Kamil Glicca? Beh, ma quando giochi con giocatori così di esperienza che hanno fatto calcio ad alti livelli è anche più facile. Però Kamil si è inserito subito benissimo e si è messo a disposizione del gruppo. Sonia, Luca ti ascolta. Sì, ciao. Allora, quanto era importante affrontare, seppur in amichevole, la Lazio e non prendere gol per arrivare con maggiore fiducia a questa prima del Benevento contro la Sampdoria? Sì, è importantissimo perché ci dà fiducia, anche perché giocavamo, ripeto, contro una squadra fortissima, contro un attaccante che è uno dei più forti in Europa. Quindi, ripeto, siamo orgogliosi, siamo orgogliosi perché dipende tutto da noi. Questa Serie A dipende solo da noi. Sappiamo che dobbiamo lottare ogni partita, ma se la mentalità è questa io sono convinto che arriveremo lontano. Sicuramente, tra l'altro, una cosa che ho notato, puoi darmi conferma, condizione fisica, veramente siete a buon punto, possiamo dire anche pronti? Sì, dobbiamo anche dire che non siamo stati fermi tantissimi, abbiamo avuto, penso, 10-12 giorni, quindi fortunatamente perché per affrontare il campionato di Serie A devi essere informissimo, altrimenti rischi magari di fare anche brutte figure. Noi cerchiamo di prepararci al meglio e sono convinto che lo stiamo facendo. Tra i punti di forza della passata stagione, a parte ovviamente la qualità, perché non si prescinde da quella per affrontare i campionati in un determinato modo, c'era sicuramente la coesione, l'unione del gruppo, anche nella capacità di affrontare i momenti difficili che in Serie B sono stati pochissimi. Ecco, come è stato, com'è l'inserimento dei nuovi all'interno di un gruppo già unito? Insomma, ultimo arrivato da Bo, comunque ci sono stati sei colpi di mercato, forse ne arriveranno altri, però ecco, possiamo già parlare di un gruppo unito, pronto ad affrontare le difficoltà che gioco forza ci saranno? Sicuramente, sicuramente. Io sono convinto che la società ha fatto un grandissimo lavoro. Sono anche convinto che non abbia preso dei giocatori solo per le loro qualità, ma anche per le qualità umane che, diciamo, si sono saputi inserire subito nel gruppo. Penso che oggi l'abbiate anche visto, il fatto di soffrire tutti insieme, anche tutti i giocatori che sono entrati nel secondo tempo sono entrati benissimo, e quindi, ripeto, siamo pronti. Poi dopo sappiamo che la sera è un campionato lungo, difficile e ogni partita sarà una guerra per noi. Manca ancora una settimana, però che cosa, secondo te, dovrà avere questo Benevento in campo alla prima? Come dovrà scendere in campo? Io penso che con lo stesso atteggiamento di oggi, un atteggiamento di grinta, l'unica cosa è che dobbiamo magari sfruttare un po' di più le occasioni, perché sicuramente non saranno tante come in Serie B, e quindi in Serie A, quando hai le occasioni, devi sfruttarle. Però penso che partiamo da un ottimo punto che abbiamo fatto oggi, anche se purtroppo non vale per la classifica, però insomma è stata una grande prova e ripartiamo da qua. Considerando che chi ci sta seguendo non ha potuto assistere all'amichevole, io ho parlato delle due azioni, citavi prima anche tu del Benevento, azioni importanti di Moncini e di Caprari. Ecco, ci sono state delle azioni, delle occasioni della Lazio che vi hanno impensierito. Le raccontiamo un po' per far capire anche ai tifosi che purtroppo non hanno potuto vedere l'amichevole. Ma io penso che il pareggio è il risultato più giusto. Le occasioni più limpide forse le abbiamo avute più noi. E ripeto, a questi livelli devi cercare di essere il più cinico possibile, perché poi alle altre squadre magari basta un'occasione e magari perdi la partita, cosa che a differenza magari sarebbe non capitava.